All'arrivo dei sanitari era già morto da alcune ore. Un 73enne è stato così ritrovato senza vita in un fossato lungo la strada della Libia nel comune di Anghiari. L'uomo era alla guida della sua station wagon quando, per motivi ancora da accertare, è uscito dalla carreggiata finendo inesorabilmente tra la fitta vegetazione. L'intervento dei sanitari dell'emergenza urgenza dell'Asla Toscana Sud-Est con l'ambulanza infermierizzata di Subbiano attorno alle 14.10 arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del 73enne. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno adesso stabilire l'esatta dinamica del fatale incidente.